Ciao ragazzi, in questo video vi farò vedere come funziona il mio metodo BAS Blue Slicks. È un metodo in PDF, quindi io l'ho caricato adesso sul computer e vi faccio vedere nello specifico come studiare e come funziona il metodo. Passiamo alla visualizzazione sul PC. È un metodo in PDF tradizionale, cioè non come l'ultimo che ho fatto, basso batteria, dove avevo all'interno audio e video cliccabili. Questo è un PDF normale, potete vederlo sia su PC che su un tablet, normalissimo. All'inizio c'è la presentazione, si tratta di 42 RIF-11. Melodici perché sono quasi tutti nella parte superiore, acuta, del basso, quindi quella che si suona un po' di meno normalmente. Qui spiego come studiare sul metodo, cioè imparare la trascrizione. Quindi voi avete, ad esempio, lì che è uno, la trascrizione sul primo accordo, quindi un blues in fa, sul fa settima abbiamo questa linea melodica, ritmica. Imparare la trascrizione usando appunto le tab o i suggerimenti che uso nella pagina. Infatti sotto vedete dei consigli che do sul bending, armonici o di posizione. Dopo, quando hai memorizzato bene la frase, devi trasportarla sugli accordi del blues. Cioè, dopo io lo spiegherò, il blues è formato appunto dal primo grado, quarto grado e quinto grado. All'inizio lo spiego scrivendo anche il quarto grado e il quinto grado trasportati. Però questo è un lavoro che dovrai fare tu. E ti sarà molto utile comunque per la tua crescita musicale. Infatti qua, lo stesso riff, eccolo, viene fatto appunto una volta, due volte, perché le prime quattro battute sono in fa settima, poi viene trasportato su si bemolle, poi ritorna a fa, poi viene dimezzato la prima metà in tonalità di do, la seconda si bemolle e poi ritorna a fa. Nel secondo lick lo faccio ancora vedere e poi dal terzo in avanti voi vedrete soltanto più il lick nella tonalità di pianto. Quindi blues in si, io ho il primo accordo di si, la mia frase, e poi da qui sarete voi che dovete svilupparla sulla struttura del blues. Poi vi fate aiutare dagli audio. Allora, negli audio voi troverete due cartelle, mp3dx e basi blues. In mp3dx vedrete, ad esempio, questo qua, il 70, scusate, il 3, fatto alla velocità di 70 e 90 bpm. Quindi vi troverete, se lo fate partire, il basso che suona prima a 70 e poi a 90. Qui viene soltanto suonato il lick sul primo accordo. Ok, adesso parte quello a velocità 90, così questo vi deve servire proprio per impararlo all'inizio. Invento il 10. In un secondo momento, invece, voi lo trasporterete. Allora, blues in si, vado a cercarmi i blues in si. I blues sono in tutte le tonalità a molte velocità diverse. Il metodo è stato pensato per farlo studiare a velocità progressive, quindi voi dovrete arrivare alla velocità di 90, ma chiaramente avete bisogno di una base più lenta per poterlo studiare. Quindi andiamo a cercare il blues in si. Ad esempio qua c'è 70 e 90. La base non ha il basso ed è su tutta la struttura del blues. Ora passo sul quarto grado. E così via per diversi minuti, in modo che voi avete il blues che gira e potete studiarci sopra. Veniamo poi, vi faccio vedere brevemente, allora, la trascrizione del riff. Poi sotto, completo comunque con delle indicazioni o sulla scrittura, sulle posizioni, bending, oppure armonici, pentatoniche minore, faccio vedere da che note è composta. Shuffle. Poi affrontiamo il blues minore con la sua struttura, dei licks, in questo caso no. Ci sono maggiori e minori, chiaramente. Scala blues, utilizzo la quinta bemolle. Qua siamo soltanto al lick 8, ce ne sono 42. Andiamo avanti, bicordi, bending. Se potete notare che sono sempre tasto 14, tasto 12, 14, 12, quindi su una porzione acuta del basso. Questo chiaramente vi aiuterà a crearvi dei groove, diciamo, solistici, quindi in previsione di un'improvvisazione. Interessante, ad esempio, l'uso del mi bemolle, che è la nona bemolle dell'accordo di re settima, quindi andiamo ad analizzare anche armonicamente quel che è andato a suonare. C'è veramente moltissimo materiale su cui divertirsi. Gli audio, se non sbaglio, sono più di 200 megabyte di materiale audio. Qua faccio vedere i turn around, diversi tipi di turn around. Utilizzo anche lì sopra. B-cordi, glissati. Qua affrontiamo anche, verso la fine, l'uso della scala dell'accordo diminuito come sostituzione di accordi, quindi un breve accenno anche alla sostituzione degli accordi con il diminuito. Grazie. Grazie. Grazie.